Generazione flop, ferma lo flop, ritoccata con il Photoshop Buonasera a tutti, rieccoci con un altro video tutorial di Photoshop CS5 In questa lezione vi farò vedere come si può sdoppiare una persona all'interno di un'immagine partendo da due immagini diverse, fondendoli in una sola come se una persona stesse davanti a se stessa E' un'operazione molto semplice ma è una delle poche che prevede delle precauzioni, richiede delle precauzioni al momento dello scatto Intanto la più importante è scattare con un cavalletto tenendo fermissima la macchina fotografica in modo che l'intero sfondo, la scena rimanga sempre uguale da non avere problemi di prospettiva Altra cosa, la persona per un'immagine comunque molto statica, molto base come questa qua non dovrebbe toccarsi, quindi mettersi in due punti diversi abbastanza distanti da non avere contatto Altra cosa, la persona dovrebbe spostarsi sulla stessa linea anche questo per problemi di prospettiva in modo da non sembrare più piccolo o più grande a patto che voi non vogliate avere un effetto del genere Inizialmente dobbiamo partire come al solito con due immagini diverse della persona che si sposta in due punti differenti per avere appunto questo risultato finale Allora, intanto dobbiamo avere sullo stesso livello cioè su Udi e sullo stesso progetto i due livelli diversi, in questo caso sono separati perché sono due file diversi Per poterlo isolare andiamo a staccare Andiamo a staccare l'immagine L'immagine attiva ha lo sfondo, quindi il livello attivo e per poterlo inserire nell'altra immagine basta semplicemente spostarlo fisicamente Vediamo come qua abbiamo finalmente i due livelli distinti Infatti se andiamo a rendere non visibile il livello 1 vedremo che possiamo vedere il livello 2 Conviene rinominare sempre i livelli Infatti facciamo che chiamarli questo qua sinistra E quello dietro Andiamo a chiamarlo quello sotto Andiamo a chiamarlo ovviamente destra Ok, siamo pronti per iniziare Ovviamente come gli altri video tutorial Partiremo sempre da un metodo molto semplice e basilare Per arrivare a uno un po' più complesso ma molto più utile ed efficace Ovviamente sempre dipende da quello che volete fare Dalla qualità che volete raggiungere E dalla semplicità del vostro lavoro Partiamo dal primo metodo Il primo metodo è molto semplice Stando sul livello superiore Quindi in questo caso a sinistra Andiamo a prendere uno strumento semplicissimo che è la gomma Immagino che voi abbiate capito Andiamo a eliminare una parte di immagine Quella al di sotto della quale c'è il livello destra E andiamo a far visualizzare il livello sotto Scegliamo una dimensione abbastanza grande Una durezza abbastanza minima In modo da avere una buona sfocatura nei bordi E andiamo a far vedere la sagoma sottostante Eccoci qua Il lavoro sarebbe già finito Infatti questo qua è il metodo appunto più semplice Ma è molto utile quando abbiamo lavorato bene all'inizio E abbiamo comunque due immagini molto nitide Su sfondo fisso e regolare Come appunto ho fatto io in questo caso Quindi Il primo metodo è questo qua Molto semplice Gomma I due livelli Andiamo a eliminare la parte vuota Per far vedere quella sotto Infatti se noi andiamo a far scomparire Il livello sottostante Vedete che si crea proprio la sagoma Allora Tornando alla situazione iniziale Ok ci siamo Siamo tornati all'inizio Selezioniamo livello superiore Il secondo metodo In cosa consiste? Consiste nel creare una maschera di livello Io non so se voi sapete cos'è la maschera di livello Se avete seguito il mio primo video tutorial Ma comunque ve la rispiego in breve Una maschera di livello È praticamente Un modo per poter far passare Oppure no Degli effetti Nei livelli sottostanti Cosa vuol dire? Se io Creo un'illuminazione Posso far passare Quest'illuminazione Attraverso questo rettangolino Bianco Posso farlo passare o meno Con un pennello In alcuni punti L'immagino oppure no In questo caso qua Si applica tutta l'immagine Tranne Che in questi punti Che io ho fatto Non passare Con il colore nero Che non è un colore Ma è un tipo di densità Infatti andiamo a vedere Che c'è La sagoma che si è creata Ma Questo non è il momento Dell'insegnare le basi Magari farò un video Apposta Torniamo a noi Dopo aver più o meno capito Cos'è una maschera di livello Andiamo a creare Sul livello Una maschera di livello Dobbiamo andare a creare Un rettangolino bianco Per farlo Dobbiamo cliccare In questo pulsante Dopo aver visto Che è stato selezionato Il livello Che vogliamo Su cui vogliamo andare a operare Vediamo Come si è creato E badate che per poter lavorare Sulla maschera di livello Dove deve essere circondata Da queste linee Deve essere Inquadrata Diciamo Ci siamo Adesso dobbiamo andare A prendere Il pennello Scorcito di tastiera B Per chi non lo sapesse Pennello Andiamo anche qua A prendere una misura Abbastanza Grande Una durezza Più o meno Verso il 25 In modo che ci sia Una buona sfocatura E assicuriamoci Che ci sia Selezionato il colore nero Attenzione Voglio solo ripetere Che non è Il colore nero Perché io non vado A colorare di nero Qualche parte Dell'immagine Io vado semplicemente A bloccare Del tutto Al 100% L'effetto Che voglio Far passare Sugli altri livelli Con la maschera di livello Attiva Il colore nero Andiamo A far passare L'effetto Al di sotto Eccoci qua Direte L'effetto è lo stesso Difatti l'effetto è lo stesso Cambia solamente appunto La possibilità Di manipolazione Dell'immagine Di ritocco Cosa succede? Quando Non si ha Due immagini Molto ben nitide Con lo sfondo Giusto e uniforme Si possono creare Appunto Dietro l'immagine Delle Differenze di sfocatura O comunque Vedete che cambia qui Quindi cosa vuol dire? Se io Vado A Nascondere l'immagine Vedete che qua È tutto Un casino Vedete anche la differenza Sui bordi Guardate attentamente qua Si crea questa cosa qua Perché noi non abbiamo fatto passare L'effetto Quindi Per poter andare ad aggiustare bene Andiamo a Selezionare il colore bianco Quindi Invertendo Andandolo a Selezionare Direttamente alla tavola Andiamo a Perfezionare Il nostro tocco Vedete come si ricrea La sfocatura Che c'era nel livello Destra Cioè nel livello sinistra Scusate Andiamo a Mettere a posto Quella Ti vedete che se per sbaglio Vado a toccare Vado a eliminare l'immagine Invertiamo di nuovo colore Se voglio andare a mettere a posto L'immagine dentro Ovviamente voi Non vedrete molto La differenza Ma per altri tipi di immagine Quando lo sfondo Non è uniforme La differenza si vede Come perché Andrebbero a crearsi Degli aloni Qua ai lati Praticamente Quello che c'era Nel livello sottostante Perfetto Questo qua È Il metodo più Corretto Se lo andiamo a vedere Bene o male C'è solamente la sagoma Che spunta Quindi siamo riusciti A metterle Le due sagome Sullo stesso livello In modo molto naturale Infatti Sembra una foto fatta apposta Come vedete La sagoma È molto ben ritagliata Un altro modo Per vedere A che punto siamo In modo da poter lavorare Diciamo in diretta Con La nostra maschera di livello È andare su Canali Sinistra Maschera in questo caso Andiamo a farla vedere Vediamo proprio il tracciato E quindi qua possiamo lavorare Con maggior naturalezza In modo che sappiamo Che le parti rosse Sono Un'area Nella quale L'effetto del livello Sovrastante Non passa Quindi Questa immagine Questo pezzo di muro Che ci sarebbe Nella Nella parte sinistra Andrebbe a togliersi Facendo vedere Quello che c'è sotto Questa è una tecnica Molto semplice Molto basilare Ho voluto spiegarvela Perché non sempre Viene spiegata Con i diversi metodi E un consiglio Ovviamente si possono anche mettere Più di due immagini Io l'ho fatto Con lo stesso soggetto Ho fatto un'immagine Con tre Diciamo persone Tre C'è sempre lui Però in tre posti diversi Lì è un po' più complicato Perché È necessario Intanto lavorare Con Il metodo Della maschera di livello E soprattutto Dovete andare a capire bene Quali livelli andare A scavare Diciamo in questo caso qua Si possono fare anche immagini Dove Il soggetto si tocca Ma lì è un po' Più difficile Perché ci da andare A ritoccare maggiormente Con diversi Strumenti Tra cui anche appunto Il pennello Spero che voi Abbiate capito Scrivetemi per qualsiasi cosa A questi A questi Contatti qua Per qualche richiesta Io cercherò Di soddisfarla In qualche modo Spero che vi sia Stato d'aiuto Grazie mille E buonasera Grazie mille Grazie mille